Apri il Salone del Gusto di Torino, mentre l'Abruzzo si prepara a pianificare per filo e per segno tutte le tappe per arrivare all'Expo 2015. Quella di Torino si rivela come ottimo banco di prova per studiare plus e minus dei prodotti made in Abruzzo. Sempre di vetrina si tratta e dunque un'occasione per conoscere nuove competenze. Assolutamente sì, parteciperemo dal 23 al 27 prossimo al Salone del Gusto promosso da Slow Food, insieme a una delegazione importantissima di nostri produttori allo Slow Food abruzzese saremo presenti su uno stand di 140 metri quadri, avremo i nostri presidi, i nostri prodotti tipici, protagonisti di questo Salone assolutamente importante. L'anno prossimo saremo ancora più protagonisti a Expo 2015. A far riflettere sulle necessità di nuove competenze da applicare in una piattaforma come quella dei mercati internazionali è la consapevolezza che di tante eccellenze presenti sul territorio poche escono dai confini. Non si conoscono i pregi e le virtù, dunque da comunicare c'è un'intera regione. Abbiamo tante eccellenze sui nostri territori, tanti presidi e lo Slow Food è sicuramente un ente che promuove in maniera specifica i nostri territori e soprattutto le nostre produzioni di eccellenza. La Regione Abruzza accompagnerà questo processo di promozione dei territori, delle produzioni e soprattutto delle eccellenze della nostra Regione.